Le 7, una buona giornata a tutti dalla nostra redazione. Ormai la questione degli agricoltori, la protesta dei trattori, non è più solamente una questione europea, romana, ma tutto sembra ruotare attorno al Festival di Sanremo, una provocazione la mia per raccontare come quest'oggi i quotidiani si occupino con moltissime pagine del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, sotto scacco, questa è la parola chiave del giorno, per via dei trattori che chiedono di salire su quel palco per raccontare i motivi della loro protesta, ma che con ogni probabilità non lo faranno e quindi marceranno sulla città, non solo su Sanremo, probabilmente anche nella capitale, seppur con un presidio a scarto ridotto, con pochi mezzi. Ma vediamo i titoli d'apertura dei quotidiani di oggi, perché ci sono molte questioni molto più importanti di questo, ovviamente, da prendere in considerazione. Marcia, susseremo dei trattori, l'apertura del Corriere della Sera e intanto diventa un caso l'esibizione di John Travolta con critiche e accuse di pubblicità occulta. Gli agricoltori chiedono di salire sul palco o di invadere la città e la questione politica che dobbiamo poi analizzare, esiste una tensione, uno scontro interno nella maggioranza su questo, sugli agricoltori? Lo leggeremo. Dal messaggero, un trattore al centro di Roma, il titolo forte di oggi, salta il sit-in degli agricoltori in piazza San Giovanni, ha autorizzato un corteo di quattro mezzi, le frange più dure, in pressing su Sanremo. Il messaggio di questa sera dal palco non basta. Altre due questioni, Bandecchi che si dimette, il colpo di teatro a Terni, del sindaco di Terni, che si candiderà per le europee a Terni, Rebus sindaco e per quanto riguarda lo sport, la tentazione FIFA di introdurre il cartellino blu, cioè l'espulsione a tempo. La questione che vi voglio leggere però sul taglio alto del messaggero, la crisi dei negozi uno su cinque ha chiuso. Conf Commercio ha rivelato ieri che dal 2012 sono scomparse ben 111.000 attività. Se leggiamo l'apertura di oggi della stampa, l'argomento è strettamente connesso. Italia-Germania, imprese fragili. Questo è un allarme della Banca Centrale Europea invece che dice che il 10% delle imprese rischia di fallire. In difficoltà ci sono in particolare edilizia e industria, pesare l'aumento dei tassi ma anche la stretta creditizia. Frena anche il settore moda perché la Cina non compra più. Mentre tutto il mondo guarda alle scarpe di John Travolta e sembra volersi occupare solo del Festival di Sanremo, notizie ben più importanti sembrano sfuggire alla maggioranza dei lettori. Una è sicuramente questa che trovate su Sole 24 Ore di oggi. Direttiva europea sul controllo dei fornitori, allarme delle imprese per costi e verifiche. Che cosa vuol dire? Al Consiglio competitività dell'Unione Europea oggi è in programma infatti l'esame di una direttiva che impone alle imprese di controllare la tutela dei diritti umani e ambientali lungo tutta la catena di fornitura. Sarà decisivo il voto dell'Italia perché la Germania ha già annunciato l'assenzione che equivale a un no, ma insomma oggi c'è il confronto, l'Italia si astenga, dice Confindustria, perché a rischio c'è gran parte dell'industria dell'Europa per via della concorrenza sleale, inutile sottolinearlo da parte di paesi extra Unione Europea, segnatamente la Cina e in particolare sul tessile. Bufera sull'Olo Brigito, torniamo alla politica con Repubblica, gli agricoltori si spaccano la destra e mettono all'angolo il ministro, Salvini dice che è stato un errore cancellare lo sconto IRPEF, la replica di Fratelli d'Italia l'ha deciso il ministero, cioè Giorgetti, cioè la Lega, mozione di sfiducia di Italia Viva e poi la RAI che nega alla protesta il palco dell'Ariston. C'è poi la questione europea, l'apertura di ieri di Repubblica, il nod della Lega von der Leyen è invotabile e il gelo invece di Tajani, di Fratelli, scusate, di Forza Italia su Zemmur all'interno di ECR, cioè il partito europeo di Giorgio Meloni, la casa europea di Giorgio Meloni. Dal giornale Sanremo travolta, polemiche senza fine, anche qui un accenno a quello che si è visto l'altro ieri sul palco, o meglio fuori, e poi l'apertura dedicata all'eredità Agnelli che continua a fare vittime, in questo caso giudiziari, è indagato anche John Elkan, inchiesta della procura sulle fiduciari della famiglia, l'esposto di Margherita. Questa è una delle notizie che trovate di più sui giornali. Insieme alla questione Sgarbi, che invece segue solo il fatto quotidiano, perché dopo l'annuncio delle dimissioni, poi parzialmente ritrattate, ma insomma si va verso l'uscita del sottosegretario della cultura, racconta oggi il fatto che si sta procedendo con una sorta di inventario preventivo. Sgarbi va via, il Ministero controlla quadri e arredi alla cultura, mobilitati funzionari e carabinieri. Ancora Sanremo con Libero dai trattori a John Travolta, Sanremo finisce in vacca. Era facile fare questo gioco di parole con la foto della mucca ercolina. Gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano, non basta un comunicato, vogliamo il palco e la scenetta con l'attore americano è talmente brutta da diventare un caso politico. Eccolo il caso politico, lo prendiamo da domani. Trattori, pubblicità occulta ed eni, il festival sovranista è un disastro, attacca oggi il quotidiano. Patto, rai chigi sugli agricoltori a Sanremo, il greenwashing e il caos sulle scarpe di John Travolta. Lettura poco diversa che fa la verità, Sanremo stravolta da qua qua, l'umiliazione è fatta a TV ma l'apertura è dedicata, come spesso fa Maurizio Belpietro, alla questione Covid. I creatori dei vaccini anti-Covid ammettono danni e tossicità. Ex farmacologi di Moderna hanno infatti pubblicato uno studio in cui parlano della necessità di adottare strategie per ridurre i rischi legati ai farmaci mRNA. come possiamo renderli sicuri significa che ora non lo sono. Dal resto del Carlino, trattori, fronti aperti tra Roma e Sanremo. Vi segnalo la foto a tutta pagina per un'intervista a Beppino Englaro, ricorderete il padre di Eluana, a 15 anni dalla morte della figlia, fine vita, scusate, una legge, serve una legge nel nome di Eluana. Andiamo sul tempo, sprechi stellari, disastri grillini, l'Inps certifica lo sperpero del reddito di cittadinanza, è costato 34,5 miliardi, una voragine nei conti pubblici aperta anche dai bonus edilizi per il 110%, in fumo 100 miliardi. Geniale la vignetta di oggi di Osho in questo festival che col ballo del Quacqua sembra aver toccato il fondo. Mamma mia che è salvata, sembra dire un sinner che con il suo lavoro ha riuscito a scamparla e a togliersi da quel palco. Il mattino, commercio, grido d'allarme, chiuso un negozio su cinque per il quotidiano napoletano che festeggia poi il grande successo di un cittadino. Jolyer alla classifica mondiale di Spotify è in testa, ma anche la vicenda di ieri, terrificante a Napoli, uccide la moglie, spara dal balcone, sciocca a San Giovanni, i cittadini barricati in casa, un ex vigilante che poi si è ucciso, forse usando il veleno. Torniamo a Sanremo, non potrebbe essere altrimenti sul secolo XIX, quotidiano di Genova, quotidiano Ligure, trattori, rivolta a metà, a Sanremo solo un comunicato, letto da Amadeus, annullato il sit-in, previsto invece per oggi a Roma. Andiamo nel nord-est con il gazzettino, cortei e caos, sfida dei trattori, salta l'accordo sul sit-in, sfilata di quattro mezzi nel centro di Roma, ultimatum a governo, ci ricevano e poi blitz a Sanremo. C'è una storia che prendiamo dalle pagine della cronaca per Maddi, la bimba che vive in ospedale, collegata a un macchinario, perché sta aspettando un trapianto di cuore. Andiamo sull'avvenire, non sono sbarcati, l'unico quotidiano, quello della CEI, oggi a ricordare un tragico naufragio in Tunisia, con 13 morti, 27 dispersi, decreto cutro intanto alla Corte Europea, il Papa, se chiudiamo occhi e orecchie, siamo complici dei trafficanti di persone. A proposito di Europa, faccio vedere anche la copertina di left che trovate da oggi in edicola, Europa a rischio, Germania, Spagna, Italia e altrove, crescono i partiti di estrema destra, che vogliono prendersi Bruxelles, fermiamo l'onda nera, scrive il periodico di Simona Maggiorelli. Andiamo sul foglio, che accusa le femministe oggi con il suo articolo d'apertura. Dove sono le femministe? L'icona del Mitugi, nel paltro contro i silenzi su Amas, lo stupro non è resistenza. Poi il titolo rosso, quello del direttore agricoltori, in ostaggio di Coldiretti, la lettura che fa il quotidiano della vicenda Trattori. Sciolto il giuridio a disonore, ma le balle della Meloni contro Conte restano inconfutabili. Allora, questa è la notizia del quotidiano di Gaetano Pedullà, molto vicino, come sapete, alle posizioni del Movimento 5 Stelle. Non è l'unico quotidiano a dare questa lettura di un caso che approfondiremo nel nostro spazio dopo la pubblicità, per capire chi ha ragione, chi ha torto sulla vicenda del giuridio, che si è sciolto senza un verdetto. Per qualcuno Conte si è portato via il pallone capendo che avrebbe perso, per altri invece è sicuramente un verdetto che è stato influenzato. Cercheremo di capirlo leggendo diversi commenti. Siamo sul manifesto, la retrovia continuiamo così, riprendendo un celebre adagio di Nanni Moretti. Il Parlamento approva la proroga per inviare armi all'Ucraina ancora un altro anno, il PD vota a favore, continua la sforzo bellico e invece non parte quello diplomatico. Gazzetta dello Sport per fermarci qualche istante la scelta della Juve vai con il Diz, il sorpasso del Turco con rinnovi il regalo anche la maglia numero 10. A tra poco. Ben trovati, eccoci ancora sui giornali per cercare di capire qualcosa in più sulla protesta degli agricoltori. Il dato politico è esiste o meno una frattura nella maggioranza su quelle che sono le misure che sono state adottate e quelle che andrebbero adottate in futuro nei confronti degli agricoltori. Le proteste e l'IRPEF agricola in particolare, alta tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. Su che cosa? Il carroccio, lo stop all'esenzione, è stato un errore del governo, ha detto il capogruppo Molinari, replicava ieri i foti, è stato deciso insieme, ma tutti quanti sono d'accordo nel dire che in ogni caso le misure sarebbero state prese dal Ministero dell'Economia, cioè da Giorgetti. Il rappresentante della Lega alla fine della manifestazione degli agricoltori a Roma non ci sarà, ma al centro del contendere resta l'esenzione dell'IRPEF agricola in vigore dal 2016, ma eliminata dall'ultima legge di bilancio. Da giorni la Lega ne chiede la proroga per almeno tutto 2024 e durante l'esame alla Camera del decreto mille proroga del capogruppo Molinari è passato all'attacco, come vi dicevo, chiedendo che venga reintrodotto e soprattutto dando la colpa al governo. Da che parte sta la ragione? Ci sono diversi spunti che dobbiamo analizzare. Sicuramente c'è un ultimatum al governo, arriva la sponda di Salvini, l'ultimatum degli agricoltori, i leader della protesta, dicono e chiedono vogliamo essere ricevuti dal Premier o dal Ministro. L'incontro con il Vice Premier c'è stato ieri e slitta la proroga dell'esenzione sull'IRPEF. La rivolta dei cingolati agita e divide la maggioranza, scrive anche il messaggero l'incontro ha come promesso Matteo Salvini in visita all'Aquila una ventina di trattori a ruspe abruzzese e i loro proprietari che si radunano in cerchio intorno al leader della Lega. Lui, braccia a concerto e gilet, lo vedete nella foto, annuisce mentre i contadini spiegano per filo e per segno le ragioni della rabbia che corre dalle strade serrate fino al raccordo anulare in direzione Roma. Questa la protesta. Trattori in panne, scrive oggi la stampa, annullano il sit-in di Roma, annunciano una marcia limitata a quattro mezzi, a Sanremo la protesta si riduce a una nota di Amadeus. La RAE ci teme, salvo sorprese, aggiungiamo. Ma intanto c'è un'intervista interessante oggi di Angelo Bonelli che rompe un po' il fronte che ieri si stava compattando sulla questione con un'intervista diciamo ad Angelo Bonelli. Dicevamo giusta la lotta contro la concorrenza sleale, dice il leader di Europa Verde, istanze del movimento che sono state strumentalizzate perché chiedono solo che le regole siano uguali per tutti. Sorprendente questa intervista, brava, serena, riformato, ma non è l'unico spunto che troviamo oggi sui giornali. la RAE respinge i trattori dal festival senza palco invadiamo Sanremo ma anche Elena Dusi su Repubblica scrive nell'Unione Europea tira un brutto clima pesticidi, gas, serra e rinnovabili così è naufragato il Green Deal il sogno ecologista bloccato da guerre e pressioni politiche. I punti sono questi tre il Green Deal dimezzava l'uso dei pesticidi entro il 2030 il Parlamento Europeo e von der Leyen l'hanno bocciato i gas serra l'Europa vuole ridurli del 90% entro il 2040 e del 100% entro il 2050 dal 90% oggi sono scesi però solo del 32% e i limiti di particolate biossido di azoto più alti dei limiti OMS l'Europa non trova un accordo per abbassarli. A proposito di questo è una semina elettorale siamo in piena campagna elettorale ma c'è da schierarsi da una parte o dall'altra i partiti cominciano a fare i conti su quello che potrebbe essere il consenso elettorale che si può racimolare schierandosi da una parte o dall'altra salendo sul trattore o non salendoci a Strasburgo i partiti fanno a gara incontrare il favore dei coltivatori per il momento allo studio delle istituzioni europee ritocchi per compiacere la protesta contro gli oneri della burocrazia e gli stretti vincoli ambientali della politica agricola comune qualcosa come vedete si sta muovendo e viva la PAC abbasso la PAC è finita la PAC scrive Marco Bresolin la politica agricola comune dell'Unione Europea per l'appunto la PAC è diventata ormai uno dei bersagli principali delle proteste degli agricoltori che sono scesi in strada in tutto il vecchio continente c'è un'intervista interessante a Teresa Schmidt studentessa e leader dei giovani contadini non c'è un fronte unico come sapete non c'è un leader comune tanti paesi tante proteste talvolta molto diverse tante sigle lei è una di queste non siamo nemici del clima ci tiene a specificare ma volevano introdurre tasse insopportabili lei è la passionaria tedesca dei trattori che racconta intervistata da Letizia Tortello ho combattuto per non far morire la mia fattoria che esiste dal 1555 no a chi impone solo divieti e ordini con la forza dei trattori abbiamo bloccato il piano del governo questo per farvi capire come i volti della protesta siano molto diversi e ognuno abbia le sue ragioni intanto Sanremo è ormai un caso nazionale travolta non solo dalla questione dei trattori ma anche dalla questione qua 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 ieri la RAI ci rifila l'umiliazione fatta a tv con tanto di foto siamo sulla verità il divo di Pulp Fiction coinvolto in una gag demenziale poi visibilmente contrariato impedisce a Viale Mazzini di diffondere le immagini sul web altro che nazionale popolare è una figuraccia mondiale e poi la verità accanto visto che ieri qualcuno avanzava a questa ipotesi pubblica una serie di documenti di foto prese dalla rete che dimostrano come fosse tutto già abbondantemente concordato polemiche la polemica è quella per le scarpe dell'attore inquadrate senza veli con una griff ben in primo piano come annunciato dal marchio il giorno prima ma il direttore artistico sbotta però ecco le prove insomma questa era prima che andassero in scena quelle scarpe con l'azienda che annunciava in arrivo a Sanremo proprio il marchio con quelle scarpe l'altra questione politica abbiamo cambiato argomento è quella che riguarda il giurì adesso vi leggo una serie di titoli di giornali di letture sulla questione visto che ovviamente i quotidiani d'area leggono in maniera diametralmente opposta la questione sciolto il giurì questo è il Corriere della Sera sul MES Conte erano Promeloni e Lira di Mule che parla di oltraggio questo è il dato di fatto il giurì d'onore si è sciolto dopo l'addio di due membri c'è stata una lite sulle conclusioni del documento fino a pagina 15 raccontano le cronache andava tutto bene da pagina 16 in poi la discussione si è bloccata chi ha ragione in questa vicenda il blitz di Conte finisce in farsa il leader Grellino rinuncia all'istanza volevano far vincere Giorgio Meloni replica Mule falso è lui che è scappato sostanzialmente portandosi via il pallone questo è quanto è la lettura che fa Libero leggiamo invece Daniela Preziosi su domani le accuse e la farsa la destra sfascia anche il giuridionore il presidente della camera lo scioglie Mule accusa le opposizioni ma sulla vicenda del MES non ci sono dubbi aveva ragione Conte se ci spostiamo sul fatto quotidiano Meloni Conte scontro senza verità Fontana chiude il giuridionore il presidente della camera accoglie la richiesta a 5 stelle Mule dice l'ex presidente si porta via il pallone la replica volevate favorire Giorgia altra questione è quella del duello televisivo tra Eli Schlein e Giorgia Meloni il messaggero oggi ci dà una parziale notizia era noto che potesse esserci uno sdoppiamento di questo confronto Giorgia Eli il duello si sdoppia scrive Mario Aiello il primo sulla Rai l'altro a Sky nessun litigio tra gli staff di Meloni e Schlein racconta Mario Aiello anzi ieri si sono sentiti molto amichevolmente si sono dati appuntamento per la settimana prossima De Visu è in campo neutro magari negli uffici dei gruppi alla camera si tratta solo di diverse sensibilità sulla scelta dell'emittente a cui far ospitare la sfida finirà con ogni probabilità che il primo confronto si terrà sul servizio pubblico a Rai 1 che è la sede naturale a cura di Bruno Vespa e il bis su Sky con ampio parter che potrebbe essere guidato dal direttore De Bellis e proprio un cronista di Sky è stato quello che nella conferenza stampa di fine inizio anno le fece la domanda sul faccia a faccia raccogliendo la disponibilità ovviamente che c'è anche però sempre stata da parte di La Sette andiamo all'estero a vedere quali sono le letture dei quotidiani per una serie di notizie che quest'oggi sono in primo piano il primo è l'altolà americano a Netanyahu a Rafa dovete fermarvi c'è un rischio disastro si tratta ancora sul cessato il fuoco anche l'Egitto ieri ha avvertito è inaccettabile che i civili siano condannati a spostamenti di massa e poi l'allarme su un volo diretto a Tel Aviv con un uomo che ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio questo il primo dato di cronaca cosa succede a Rafa ce lo racconta oggi Greta Privitera sul Corriere della Sera a Rafa senza una via di fuga davanti c'è un muro e dietro ci sono i tank è il racconto di Abed Zagut un fotografo che racconta quello che ci hanno raccontato anche gli altri inviati degli altri quotidiani che ogni giorno leggiamo non possiamo tornare a casa perché non ne abbiamo più una in avanti non possiamo andare e se succede qualcosa dove scappiamo dopo la mia tenda c'è un muro un muro sempre più alto non possiamo tornare a casa perché non ce n'è più una non abbiamo più parenti saremo sicuramente noi le prossime vittime mentre questi uomini disperati chiedono aiuto l'Egitto mette in chiaro se Israele espande le operazioni a Rafa non permetteremo un esodo di massa la foto che viene pubblicata da Quotidiano è quasi commovente si riesce a giocare a calcio anche lì in quel campo al confine con niente cioè al confine con la guerra intanto la missione Blinken si conclude l'ennesima missione di Blinken in Medio Oriente con un sostanziale fallimento Rafa è già sotto assedio il capo della diplomazia americana torna a Washington senza nulla in mano un segretario di Stato che pensa che la controproposta di Hamas cioè quella respinta da Israele per un cessato del fuoco crea spazio per il raggiungimento di un accordo ma lavoreremo incessantemente finché non ci arriveremo ma il margine di manovra ormai è limitato il primo ministro Netanyahu ha già annunciato di aver ordinato all'esercito di muoversi verso Rafa e dunque tutto inutile c'è anche spazio per opinioni molto diverse come questa che leggete sulla stampa firma di Nello del Gatto ostaggi non liberatevi liberateli parla Zvika More il padre di uno dei rapiti e uno di quelli che guida la fronda dei parenti contrari ai negoziati l'ultima volta che abbiamo fatto uno scambio è uscito dalle carceri Yaya Sinwar e dopo ci ha massacrati è un'opinione sicuramente diversa importante parlando di esteri è anche con l'intervista a Vladimir Putin fatta dal cronista americano Tucker Carson in nottata un presidente russo che ha parlato un po' di tutto sostanzialmente ha detto l'Ucraina ha avuto tempo per fare la pace ma ha voluto seguire l'Occidente per non farla non ci sarà mai una vittoria dell'Ucraina sulla Russia parla ai seguaci di Trump stop armi a Kiev troviamo un accordo questa è la rettura che fa Repubblica con un attacco diretto di Gianni Riotta all'autore di questa intervista razzismo complotti e dittatori in metodo di Tucker Carson che uccide il giornalismo dall'attacco di Repubblica alle posizioni invece ucraine con la contromossa di Zelensky Zelensky che si lura il capo delle forze armate perché faceva di testa sua la gelosia del presidente per il comandante ribelle quel patto che si è rotto alla base dei dissidi cioè l'aumento dei consensi per il leader militare a quanto pare e negli Stati Uniti cosa succede? succede che a parte Trump che riceve un punto dalla Corte Suprema c'è un Biden in grande difficoltà confuso scarsa memoria accusato un po' da tutti il dossier del procuratore che imbarazza Joe Biden ma il leader non verrà incriminato sui documenti classificati l'ira di Trump per questo un'America sempre più divisa il domani segnala la disputa legale con la Corte Suprema che è pronta a salvare Donald Trump i giudici scettici sulle ragioni per escludere ieri le toghe hanno discusso infatti gli argomenti per disarcionare l'ex presidente dalle elezioni come deciso dal massimo tribunale del Colorado non si sa quando si esprimirà la Corte a maggioranza conservatrice ma le memorie difensive del Tycoon contengono argomenti solidi prima di dare la linea alle anticipazioni del telegiornale voglio leggervi ancora un paio di cose l'avete visto sull'apertura di alcuni quotidiani meno salumieri e benzinari resistono farmacie e high tech con imprese fragili in grandi difficoltà come ha segnalato la Banca Centrale Europea una su dieci al rischio crack Italia e Germania le peggiori Meloni rilancia con i dati OXI il reddito delle famiglie cresce dall'1,4% la cosa importante al di là come dicevo poc'anzi delle scarpe di John Travolta quello che oggi si decide al consiglio competitività dell'Unione Europea un voto decisivo sulla proposta normativa giunta all'approvazione finale la Germania va verso l'assenzione cioè verso il no dopo forti tensioni politiche troppo rilevante l'impatto sull'economia sarà decisiva l'Italia è l'allarme sui costi delle forniture per la direttiva europea sulle filiere Fabio Angelicchio ben trovato e buona giornata grazie Marco buongiorno ben trovato anche a te allora rapidamente qualche anticipazione sulle notizie del telegiornale in primo piano c'è sempre il Medio Oriente dopo nulla di fatto nella possibilità di una tregua tra Hamas e Israele anzi Israele rilancia dice ci fermeremo soltanto quando avremo ottenuto una vittoria completa e minaccia però anche Sbola e Libano dice siamo pronti a schierare i nostri caccia intanto non si ferma anche la tensione nel Mar Rosso nuovi attacchi da parte del dispositivo militare navale anglo-americano sugli uti iemeniti e poi andremo a vedere anche qual è la situazione per quanto riguarda gli allevatori rientrata la manifestazione ci sarebbe dovuta essere questa mattina Roma nella capitale sfilerà soltanto una delegazione invece se ne parlerà molto probabilmente stasera al festival di Sanremo e poi infine le dimissioni del sindaco di Terni lo avevamo conosciuto soprattutto per i suoi toni e per i suoi comportamenti questo e molto altro ancora tra poco c'è Paolo Sottocorona c'è una cartina ingarbugliata piena di nuvole a te Paolo la parola con il buongiorno forse arriva la pioggia? grazie Fabio beh questa volta sì perché per settimane abbiamo giocato con qualche nuvola che passa non troppo intensa qua insomma c'è sia la quantità che la qualità è una perturbazione che ha già preso il nord le piogge ci sono e vedete che arriva anche a sud quindi non è di quelle che passava a nord toccando marginalmente l'Italia questa volta siamo proprio sulla traiettoria e quindi il peggioramento ben marcato nella giornata di oggi a prendere tutte le regioni del nord c'è qualche zona di pianura in cui vedete ancora il verde quindi le precipitazioni potrebbero non essere intense però quando si parte dall'alta Toscana l'appennino tosco emiliano la Liguria tutto l'arco alpino da ovest fino a est ma vedete che le precipitazioni sono forti anche scendendo almeno sulle zone prealpine quindi un cambiamento deciso del tempo sul resto del centro e al sud invece nuvole sì ma le piogge sono poche domani invece le piogge intense arrivano anche al centro e al sud soprattutto sul versante tirrenico restano al nord in maniera molto estesa e marcata e quindi sono 48 ore di precipitazioni molto abbondanti il salto è brusco rispetto alle pioviggini eventuali dei giorni scorsi quindi un maltempo molto forte con tutte le allerta del caso arriviamo alla giornata di domenica in cui comincia un po' ad attenuarsi questo maltempo per esempio sull'estremo nord-ovest ma vedete che gran parte del nord magari con precipitazioni meno intense ma ci sono ancora e siamo a 72 ore e ancora il maltempo che prende il centro e il sud soprattutto sul versante tirrenico arriverà anche un po' di freddo ma non subito prima peggiora il tempo e poi le temperature scendono vediamo intanto le minime di questa mattina che sono ancora molto simili a quelle di ieri in qualche caso anche più alte perché ci sono venti meridionali e chiudiamo con lo stato dei mari che sono di livello medio alto intorno all'Italia molto alto quando ci si sposta a ovest ma siccome il tempo viene da ovest possiamo anche pensare che nelle prossime ore sicuramente peggiora il moto ondoso anche intorno all'Italia se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi che si sposte che si sposte a più tardi a più tardi sui a più tardi